Ci troviamo alla Quero Paddle Roma in via Due Ponti e siamo ospiti di un bellissimo torneo di padel che è organizzato dal Paddle Professional You Go. Collaboriamo con l'azienda poliglinico Umberto Primo a questo bellissimo evento sportivo per promuovere la prevenzione, perché riteniamo che la prevenzione sia il primo approccio medico importantissimo che tutti devono fare. E allora che cosa abbiamo organizzato? Abbiamo organizzato in queste cinque tappe cinque patologie diverse che noi medici dell'azienda poliglinico Umberto Primo, io in particolare come coordinatore, ma lavorano con me tutti gli specializzanti, anche degli studenti di medicina, tutti della sapienza del poliglinico Umberto Primo e visiteremo gratuitamente tutte le persone che verranno qui e vedremo l'aiuto che riusciremo a dare. Ricordate, la prevenzione è la prima medicina. Sono cinque anni che organizzo questo format dedicato al mondo del Paddle. Quest'anno oltre a diciamo l'aspetto sportivo, l'aspetto evento, c'è anche un aspetto molto importante che è dato dalla partecipazione del poliglinico Umberto Primo e da qui il claim Paddle e Salute per rappresentare questa nuova joint venture. mio padre viene qua a giocare spesso e io ho provato un po' di scambico con mio padre e mi è piaciuta questa esperienza e vorrei fare continuare. Ho questa medaglia e sono fiero e non vedo l'ora di giocare.